Un uccello in fiamma? E' un uccello in fiamma? E' un uccello in fiamma? Se non è lì, continuiamo a andare! E' un uccello in fiamma! Vuoi parlare del sangue? E' un uccello in fiamma? E' la mia famiglia! Thamor, Ronin? E' anche i tuoi. I Ghiantti erano cosello in fiamma, e io sono rinchi in ogni quale morte. E' un uccello in un uccello. E' un uccello in sottotitolo. E' un uccello, l'ultima che i nostri amici, abbiamo giocato tutti i suoi luci. Penso che potremmo... Non, non! Falco. Thor è a prova di lava, ma io no. Beh, quello scogliatto lo va a fuoco. Che strano regno. Scusate, Modi ha avuto alcuni problemi, ma è stato il mio figlio. E l'unica razza di cui sei un po' adesso è perché di questo pezzo morto di wood. Guarda, sicuramente nessuno di noi può fare questa missione solo. E voglio imprezzare l'all-fathers proprio come voi. Non dovete like me, ma siamo dovuti confiare l'unica. Un po' un po' un po'. Confiare. Yaffa! C'è la mia? No, tor. Chiudai? Chiudai la tua, io da fuori. Perciò che non si aggrava, ma non si aggrava. Animo, in my opinion. You're more than welcome to step it up. This is me trusting you. You done with this? Come on! Ok, quindi dove si diceva il maschio? Ehi, figlio, dove si diceva il maschio? Questa maschera ha le direzione per noi? Questo non può essere il modo. La maschera è... ...pullendo in questo modo. Abbiamo dovuto trovare qualche modo. Certo. Io non stavo giocando a te, per esempio. La strada è divertente. Non ti senti divertente? Tu è molto diverso da tua figlia. Chi è? Thor, cosa... Aspetta, la strada è la strada. Tu non moravi qua qua, tu? Come ti senti? Beh, questo è il tuo problema. La strada è proprio pasto questo cliff. C'è qualcosa che ti senti a fare. Prima, ci siamo deali con loro. Come on, Thor. Guarda loro! Cosa ti ho? Cosa ti ho? Cosa ti ho? Cosa? Però ne? Recogna ti ho detto perché? Una strada? Bi Reyvedente. ・・・ Questi smutti Mi piace che sia la spada a cercare di salvarci e non non torrere Io ne frega tipo una minchiazza letteralmente Allora, let's go That's right, just try it You getting tired? Not in the slightest Don't bother An ogre You worried? Not in the slightest Stop Ogre, ma dico, lo vedi quel ciccione enorme a forma di toro? Perché non te la prendi con lui? Non è sufficiente Un altro ogre Ok Maybe a little work Can I get some help here? Since we're short on time, I'll humor you No thank you, non sei il mio tipo What? Something she vert aan the strip Come and check out E Mi Vai Ciago 9 Questa è la camera benissimo contro quello, no? Picchiata dal falco? Sure, why not? That should keep him busy for a while, hopefully. Come on, give me a challenge! Now to get to that shrine. Hey, do you trust the ace here? I mean, I know I can't trust them, I just need them to trust me, but that's only gonna happen if they think I trust them. Yeah, there's the shrine. Where are these things coming from? Here's the answer. Stop. Oh, stop. Oh, stop. Oh, stop. Oh, stop. Sì, gravota. Sì, sai, per qualcuno che è stato trattato come un guerrero, tu sei tragicamente facile da iniziare. Non, non ho. E che tu si fai qua? Esatto. E anche un closet di scuola. No. Questo sembra molto molto come trovare un destino. La questione è, cosa ti fai qui? Riescrivi la mia storia. Odin ci ha dato? Non è. Beh... Ha fatto, ma non è... Non ho lavorato. Non ho mai detto nulla cosa su Ironwood. E' quello che sei preoccupato. E' sicuramente non lo servo. Prophecies funzionano, non la mia. Ho una marvella da trovare. Sei benvenuto a aiutare se vuoi. Ma sei la mia idea? E' sicuro che sei a te per rompere le ruole così? Non c'è propria propria di te che ricordare una marvella. Nessi finali non sono stati scritti, certo? Vieni... Ciao. Oh! Ciao a tutti! Una scuola di scuola. Ah. Un'altra marvella. Surtres. E dove sono assolutamente? E dove sono assolutamente? Surtres. 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 Wow. Surtres. This must have been some fight. Yeah until it wasn't. Oh no 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 look it's because they fought together. Sì, come no? Well, that was... something. Oh, hey, remember the snake we put that soul in? Can't really forget that. I saw it. It's getting... bigger. Like, faster than normal, bigger. Yeah, I had a feeling that would happen. Huh. I'm gonna hang back here. Don't want your, uh, friend to see a giant he missed. Of course. Just... be careful. Please. You too, Loki. Hey, Ingrid. I think Thor died from... You thought you could defeat the god of thunder? Oh. Huh. My father and I visited this place the last time we were in Muspahan. Just like forever ago. Okay, interesting. Oh, Santa. Of course. I admit. That was... There were mountains of corpses by the time I finished. Cut down like... The lava ran red with everyone. True. Great. You wanna help down here? Wouldn't think you'd need my help if you beat all those trials. Or did you just watch your father do? Hey, what's taking so long? Ohhhh. What's going to be like? It's a ride. Oh, stop. It's a ship. You're not gonna get over. Oh. Oh, oh shit. You're leaving. Oh, I'm. We're losing out of here. No. Yes. Hey, what's taking so long? You wouldn't believe the scores of these things I just killed, it was glorious. I think you're right, prove wouldn't she be fairing better than you at least. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. a 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 you could have done that at any time you seem to be handling yourself well enough I was trusting you let me check looks like we need to head through that gate thor make that impression real god you are a god you're damn right and so am I you're damn right more with the bun sauna it's it's here this is the spot well where is it? in the lava? I don't no ah damn it some advice sticking your hand in lava is never gonna feel good I wasn't thinking good it's better that way all right let's get out of here no don't try to play me again you're an okay kid but you're still a giant and I'll revel in killing you too I 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